Ed eccoci qui con il tanto atteso video sulla personalizzazione di XFCE. Ciao ragazzuoli, come vi ricorderete nello scorso video avevo detto che avrei fatto un video per l'appunto in cui avrei spiegato come personalizzare XFCE nello stesso modo in cui ho fatto io. Quindi praticamente copiare, anche se in questo caso è una parola errata, comunque insomma creare una personalizzazione simile alla mia perché ovviamente io posso farvi vedere come personalizzare come ho fatto io, quindi come renderlo identico alla mia personalizzazione, ma poi nulla toglie che voi comunque possiate cambiare delle cose in modo da rendere più personale la vostra personalizzazione. Del resto credo che personalizzazione derivi proprio da questo, quindi persona, personale per l'appunto. Ma detto questo direi di non prenderci troppo in chiacchiere, di cominciare subito. Questa personalizzazione può essere fatta ovviamente su qualsiasi distribuzione, quindi non ha importanza che stiate usando Ubuntu, Arch Linux, Fedora, OpenSUSE o qualsiasi altra cosa. L'importante ovviamente è che abbiate XFCE. Tra l'altro quanto scommettiamo da 1 a 10 che non è aggiornato questo Arch Linux? Io scommetto 10 perché so che non è aggiornato e quindi vediamo quanti aggiornamenti ci sono e da mesi che non aggiorno questa macchina virtuale. E infatti, vabbè, ma facciamo finta di niente. Allora, come vedete è molto aggiornato, quindi dovete avere per l'appunto eseguito gli aggiornamenti come ho fatto io, correttamente, quindi per l'appunto, a parte gli scherzi, ovviamente voi eseguite gli aggiornamenti, non fate come me, ma tanto questa è macchina virtuale, quindi non importa. Allora, iniziamo a scaricare quello che ci serve da internet. Quindi, apriamo un browser... ...che non c'è. Ma che... ...allora, installiamo un browser... ...magari se iscrivessi Firefox correttamente sarebbe un po' meglio, però comunque va bene lo stesso. Via, via, ok. Stavo dicendo. Apriamo il browser. Che cosa stai facendo? E cerchiamo, su un qualsiasi, ovviamente, motore di ricerca, ArcDarkestTeamDownload. Quindi, come lo state leggendo adesso, magari faccio anche un po' di zoom così per l'appunto lo leggete meglio e andiamo a cercare. A noi interessa questo sito qui, quindi di GnomeLook. Non ha importanza se il sito è GnomeLook, perché tanto questi temi vanno benissimo anche per XFCE e XFVM4, quindi non c'è problema. Andiamo qui, quindi questo qui è il tema. Ovviamente, ripeto, nulla toglie che voi possiate scaricare un tema che preferite, un tema che volete voi. Questo qui è il nostro tema, per l'appunto. Lo andiamo a scaricare da qui, quindi Files. E a noi interessa questo. Quindi, buono per molti sistemi operativi ancora in servizio, ad esempio Gnome334, ma non ha importanza. Lo andiamo a scaricare lo stesso, perché, ripeto, va bene anche per XFCE. Quindi, lo vado a scaricare, lo vado a salvare. Ok. Apro la cartella e lo scompatto qui, quindi estrai qui. Mamma mia, ma non c'è niente su questo sistema. Allora. Questo è il bello di Arch Linux, no? Cioè, tu vuoi fare cose, ma non puoi perché non c'è niente. Comunque, una volta installato anche questo, andiamo per l'appunto a estrarlo. Ok. Abbiamo qui questa cartellina. Come vedete qui c'è anche XFVM4, per l'appunto, quindi non c'è alcun problema. Ora, lasciamo da parte questo perché ci lavoreremo dopo. Ora dobbiamo scaricare le icone. Nello specifico io uso le Numix Circle. Se cerchiamo su Google, ad esempio, possiamo scaricarle, diciamo, per l'appunto da GitHub. Ma su Arch Linux c'è proprio il pacchetto Numix Circle Icon Package, dovrebbe essere. Vediamo. Eccolo qui. Numix Circle Icon. In teoria, comunque, anche facendo così, se io, insomma, installo proprio l'icon team, quindi tutto il tema dell'icone, o anche l'icone quadrate. Non so se vi interessi. Comunque, io per l'appunto vado a compilare semplicemente questo perché, essendo in Aura, devo compilarlo. Quindi, è quello il problema. Se vado a compilare tutto il tema dell'icone, ci mette 6 mesi. Per cui... Quanto scommettiamo che non c'è git? Non c'è niente qui. Zero. Ecco, non fate come me. Magari, prima di fare queste cose, verificate che effettivamente sia tutto installato. Perché altrimenti può essere un problema. Anzi, comunque, potrei farvi vedere come scaricarle. Numix Circle Icon Icon Download. Perché così va bene per tutte le distribuzioni, insomma. Se io lo installo da Aura, va bene solo per Arch. Quindi, per l'appunto, cerchiamo su Google Numix Circle Icon Download. E apriamo questo risultato. Quindi, comunque, poi i vari link ve li lascio anche in descrizione così siete tranquilli. Quindi questo qui, come vedete queste qui sono l'icone, e lo vado a scaricare. Come faccio? Vado qui su Code, posso scaricare lo zip, oppure clonare direttamente tutto il repository con il comando git. Io comunque scarico il file zip in modo che vada bene un po' per chiunque, perché alcuni non vogliono usare il terminale. Quindi, anche qui, apriamo la cartella. E anche qui lo andiamo a scompattare. Quindi, estrai qui. Perfetto. Adesso, ricaricando, dovrei avere esatto. Quindi qui ho i miei due temi. Il tema proprio di sistema e il tema dell'icone. Intanto andiamo a preparare i pannelli. Quindi, cosa facciamo? Andiamo qui su questo pannello, Dix FCE. Tasto destro. Pannello. Preferenze del pannello. E ci si apre questa schermatina. Noi clicchiamo questo più, perché dobbiamo aggiungere un pannello. Quindi clicco più. Lui mi aggiunge il pannello. Io lo porto in basso qui. Magari non così. Ok. Lo porto in basso qui e lo blocco. Il primo pannello, ovvero questo, lo possiamo anche eliminare, perché non ci serve. Per ora lasciamo questo, giusto per, insomma, avere un altro pannello, ma fra poco comunque lo toglieremo. Aggiungiamo un secondo pannello, che portiamo qui. Lo blocchiamo. Ovviamente avremmo anche potuto spostare questo, ma insomma per rendere la cosa un po' più veloce, diciamo. E possiamo rimuovere anche questo pannello, che dovrebbe essere il 2. Perfetto. Quindi abbiamo ora solo il pannello 3 e il pannello 4. Sul pannello 3, quindi questo qui, andiamo in aspetto, in elementi, anzi, aggiungi e aggiungiamo il menu whisker, quindi questo qui, whisker menu. Aggiungi, chiudi e chiudi. Quindi, clicchiamo con il tasto destro questo menu, andiamo in preferenza del pannello, in realtà bastava lasciarlo aperto, io l'ho chiuso più che altro per sbaglio. Qui queste due versioni le lasciamo così e qui invece possiamo diminuire a 0. Perché insomma non ci serve che sia troppo lungo, poi lui si adatta automaticamente a quello che c'è. Quindi vado per l'appunto qui a inserire 0 e posso chiudere. Ora su quest'altro pannello lo clicco sempre con il tasto destro, preferenze del pannello e aggiungo. Quindi vado in elementi, aggiungi, orologio e componente aggiuntivo del vassoio delle notifiche. Magari vediamo, eccolo qui, questo qui. Componente aggiuntivo del vassoio delle notifiche. E aggiungiamo anche questo. Ora è configurato male, dopo vediamo come configurarlo. Per ora va benissimo così. Configuriamo l'orologio. Come si fa? Ci faccio due clic sopra. Qui in formato scelgo formato personalizzato. Quindi per l'appunto voglio un mio formato. Elimino tutto quello che c'è scritto. E vado ad aggiungere questo codice, chiamiamolo così. Percentuale H, e questo scrive per l'appunto l'ora, spazio, percentuale M, tutto in maiuscolo, e questo scrive per l'appunto i minuti. Ovviamente non la toglie che io faccia così, ad esempio se uno preferisce può anche fare così e ha per l'appunto i due punti. Non c'è alcun problema. Per quanto riguarda anche il giorno, se volete potete ad esempio scrivere percentuale N, che significa new line, quindi va sotto di una riga, e aggiungere il giorno. Quindi percentuale di maiuscolo, spazio, percentuale M in minuscolo, che significa mese, e poi percentuale Y in minuscolo, che significa anno. Se scrivo Y in maiuscolo mi scrive l'anno per esteso, quindi 2021 e non 21. Comunque a me bastano i minuti, se vogliamo i secondi facciamo semplicemente percentuale S in maiuscolo, e abbiamo anche i secondi, che però non mi interessano. Quindi abbiamo configurato l'orologio. Ora personalizzo il componente aggiuntivo del vassoio delle notifiche, quindi ci faccio due volte click. Qui metto la spunta in nascondi gli elementi in modo predefinito, e anche in adatta elementi, che serve ad adattare in modo che l'elemento sia al centro. Come vedete se lo tolgo me lo mette lì alla cavolo di cane per non dire altro, mentre se faccio adatta elementi me lo mette al centro, e va benissimo così. Per il resto lasciamo tutto com'è. Andiamo in icone del vassoio di sistema, e mettiamo nascosti su tutti quelli che avete in poche parole. Ora io qui ho solo Apple Network Manager, ma se ne avessi altri metterei nascosti su tutti. In questo modo come vedete mi compare questa freccettina, che se la vado a cliccare mi mostra quello che è nascosto. Quindi vi ricorderete che anche il mio sistema era per l'appunto configurato in questo modo. Se volete, ma non è obbligatorio, potete aggiungere un separatore. Quindi questo qui, ora ok, un separatore tra questi due elementi, quindi tra l'orologio e il componente aggiuntivo del vassoio delle notifiche. Lo clicco due volte e metto semplicemente trasparente, in modo che non sia visibile, come vedete. Io non lo metto semplicemente perché lascia troppo spazio e non mi piace, quindi lo rimuovo perché di per sé c'è già un po' di spazio. E mi va benissimo quello che c'è. Per quanto riguarda la dimensione del pannello, la lunghezza, anche qui andiamo in visualizzazione e abbassiamo al minimo. Però comunque dobbiamo lasciare la spunta su Aumenta la lunghezza automaticamente, in modo che se aggiungiamo altri elementi il pannello viene allungato automaticamente. Quindi chiudi e perfetto. Quindi come vedete ora ho il mio pannellino. Per quanto riguarda la doc, vado qui, apro un terminale emulatore. Ora metto il terminale a schermo intero e aumento un po' lo zoom. Vado ad installare PlankDoc, quindi sudo pacman-s plankdoc. Ora su Arch Linux si installa in questo modo, non proprio, perché si installa semplicemente senza doc. Comunque su altre distribuzioni ovviamente dovete usare il vostro package manager su Ubuntu, Debian e Derivate e APT, eccetera eccetera. Quindi usate il vostro gestore di pacchetti su Arch Linux per l'appunto e pacman. Quindi vado ad installare il pacchetto plank, quindi il comando è questo. Qui faccio invio, pesa veramente pochissimo e super leggera come doc e quindi la posso avviare adesso andando qui e aprendo plank. Quindi cerco qui plank e lo apro. Come vedete si avvia. Però mi aggiunge diciamo questa ombretta, non so se voi riuscite a vederla, questa ombreggiatura diciamo sopra la doc. Dopo vediamo come toglierla, perché ovviamente è possibile, ma per ora concentriamoci sulla personalizzazione della doc. Quindi semplicemente la clicco con il tasto destro e il tasto control contemporaneamente. Quindi control, tasto destro, preferenze. Qui tema, metto transparent, quindi trasparente. Dimensione, io metto 38 in modo che abbia la stessa altezza del pannello all'incirca. Se volete avete anche l'ingrandimento icone che io non uso, comunque vado a cliccare qui e come vedete mi fa l'effetto ingrandimento come macOS. Successivamente su comportamento, qui su scomparsa intelligente ad esempio a me non piace, io lo tolgo in modo che sia sempre visibile. Invece mostra sbloccato e un po' buggato. Per risolvere il bug basta semplicemente disattivarlo e riattivarlo. Questo serve per mostrare ciò che non è nella doc, quindi se io apro il terminale lui me lo mostra. Se io togliessi questo e aprissi il terminale non me lo mostrerebbe, il che è veramente molto molto scomodo. Quindi metto il mostra sbloccato e in questo modo mi fa vedere tutto. Su Doclets potete aggiungere quello che volete, se ad esempio volete il cestino lo aggiungete così, lo portate qui e avete il cestino. Per togliere un elemento basta semplicemente trasportarlo fuori, quindi così lo trascino e sparisce. E ok. E abbiamo configurato anche questa doc. Ora installiamo i vari temi, quindi sul gestore dei file in downloads. Questi due file volendo possiamo anche eliminarli per avere più chiarezza. Apro un terminale qui all'interno, quindi tasto destro, apro un terminale qui. E questa cartella ad esempio la vado a rinominare in semplicemente numix circle, semplicemente perché così è più comodo da scrivere e non per altri motivi. Quindi do il comando qui, magari aumento un po' la dimensione, sudo mv, il nome della cartella dell'icone, quindi numix circle, all'interno di user, quindi slash usr slash share slash icons. Faccio invio, inserisco la password, la cartella sparisce ma va benissimo così. Ora se io qui vado in aspetto, in icone, dovrei trovare qui numix circle che però non c'è. No, non c'è perché mi dimenticavo che allora devo dare il comando inverso, quindi mv user share icons slash numix circle in numix circle perché questa qui è una cartella che contiene altre cartelle, quindi io la apro e mi estraggo queste due cartelle. Ok, quindi tasto destro, taglia, non mi ricordavo questo particolare, ok, ed elimino questo. Ora riapro il terminale, oddio, ed ho un comando del tutto simile a quello di prima, quindi in poche parole. Sud mv numix circle con la n maiuscola e la c maiuscola in user share icon e una cartella sparisce, la stessa cosa con numix circle lite. E ora sì, se vado in aspetto deve esserci, non dovrebbe, deve. Esatto. Ci dà questo errorino che non è un errorino, dobbiamo semplicemente dare il comando che vedete, quindi gtk update, icon cache, user share icons, numix circle e numix circle lite. Comunque ripeto, il comando lo trovate qui. Quindi mettete il mouse sopra questo triangolino e ve lo dice. Ok. Ora, se chiudo, aspetto e lo riapro, non ci dovrebbe essere più il triangolino. Perfetto. Come vedete però questo tema è incompleto, perché assomiglia un po' a quello che ho io, ma come vedete in certi punti è un po' incompleto. Questo problema può essere ovviato installando direttamente tutto il pacchetto dell'icone, quindi vado qui. Dovrebbe essere nei repository di qualche distribuzione, ma nel caso comunque basta o scaricarlo, installarlo come abbiamo sempre visto finora, oppure ci sono anche i pacchetti cercando numix circle icon package. Come vedete qui numix icon team, no questo qui è il circle, però comunque dovrebbe esserci anche tutto il tema direttamente. Vediamo se lo troviamo. Queste sono delle piccolezze, nel senso che come vedete il tema è già ok, quindi non è un problema. Sono delle piccolezze in caso vogliate proprio fare le cose alla perfezione, come piace a me del resto. No, non sono proprio un perfezionista, però insomma mi piace che le cose siano fatte bene. Comunque. Numix icon team git pack, scarichiamo tutto il pacchetto direttamente, pacchetto che non esiste, perché? Perché me l'avete tolto? Fino a ieri c'era? Comunque vabbè, voi potete farlo installare tutte le icone numix su Ubuntu, quindi date questo comando, su Ubuntu scaricate insomma tutto il pacchetto numix e non avete quel problema. Ora, su Arch c'era quel pacchetto, vabbè. Comunque, non importa. Ripeto, sono delle piccolezze che non hanno tutta questa importanza. Aggiungiamo ora questo tema, quindi ArcDarkest. Apro un terminale qui, come sempre. Eh sì, non così però. Ok, forse un po' grandicello, ma va bene così. Sudo mv, ancora una volta asterisco perché, ok, qui non c'è lo scherzetto di prima. Quindi sudo mv asterisco user, quindi slash usr, slash share, slash questa volta themes, non icons, themes. Faccio invio, lui sparisce. Però, se io vado in gestore delle finestre, dopo vediamo come configurare anche questo. Comunque, regolazioni del gestore delle finestre, no. Gestore delle finestre. E qui scelgo ArcDarkest. Come vedete già qualcosa inizia a cambiare un po'. Comunque, vado anche in aspetto. E qui scelgo ancora una volta ArcDarkest. E boom! E già vedete che sembra più nuovo. Ripeto, per quanto guarda queste, queste icone non complete, potete comunque risolvere installando il pacchetto che dicevamo prima. Quindi, direttamente tutto l'Icon Pack di Numix. E quindi, come vedete, già inizia ad assomigliare al mio sistema, come piace tanto a voi. Ora, dicevamo prima, vediamo come rimuovere questa ombra. Quindi vado in gestore delle finestre. Dovrebbe essere il regolazioni del gestore delle finestre. Quindi questo qui. Qui potete fare le configurazioni che volete, molto semplicemente, come vedete. Comunque, in compositore, quindi nell'ultima scheda, togliamo questa spunta. Quindi, mostra l'ombra al di sotto delle finestre delle dock. Quindi, tolgo ombra sparita, come piace a noi. Ora, anche opacità delle finestre durante lo spostamento. Come vedete, se ho sposto una finestra, rimane opaca. Se io questo qui lo porto, ad esempio, qui, diventa più trasparente. Quindi, anche se, ad esempio, io questo qui lo porto qui e apro sopra, non so, dico a caso, un terminale, come vedete, questa finestra è inattiva ed è più ed è meno opaca, insomma. Quindi, ripeto, potete personalizzare tutto come volete. Questo è il bello di Linux. Vediamo anche come personalizzare il terminale. Quindi, lo apro, vado in modifica, preferenze, aspetto, sfondo qui su sfondo, clicco e metto sfondo trasparente. Lui qui mi dice, mi chiede quale opacità voglio. Ad esempio, io metto 0.85, decido che 0.75 mi va bene e, come vedete, ho un po' di trasparenza. Infatti, se lo porto qui, vedo il logo. Ovviamente, più trasparente lo metto, più il terminale è trasparente, ma 0.75 è quello che io ho testato più tempo, perché, ad esempio, quando apro il terminale per dare dei comandi scritti sul web, è molto comodo perché io metto il terminale sopra, sotto leggo i comandi, ma leggo anche quello che scrivo perché non è troppo chiaro, altrimenti scriverebbe bianco su bianco se è una scheda bianca e quindi per l'appunto non si vedrebbe. 0.75 è quello che io, testando, ho trovato che sia la migliore opacità. Ora, per quanto riguarda i font, invece, andiamo sempre in aspetto, caratteri... E qui dovrebbe già esserci droid. No, non c'è niente. Lo possiamo installare con ttf droid, quindi facciamolo subito. Ecco, vedete quello che vi dicevo. Se, ad esempio, questo qui fosse un comando, io lo vedrei, però vedrei anche quello che sto scrivendo qui, perché non è troppo poco opaco. Ovviamente adesso è troppo... Cioè, le scritte sono piccole, voi potete aumentarle andando in preferenze, quindi modifica preferenze, aspetto... E qui, che è per l'appunto il font, vado ad aumentare. Ad esempio, posso mettere quello che voglio. Non so, 14, 15, dico a caso. E come vedete, ora è più grande. Quindi, stavamo dicendo, installo quel font. Ok. Devo probabilmente ricaricare tra parentesine aspetto. Ok. Qui scelgo un po' quello che voglio. Ad esempio, mi trovo bene con droid sans regular, quindi seleziono. E comunque, lo stesso font, posso metterlo anche per il terminale. E si è già messo automaticamente, questo va benissimo. Di conseguenza, qui magari, porto 12, perché 15 è un po' grandicello. Ok. Questo qui, per l'appunto, è il nostro terminale. Che si apre bello al centro, come vedete, tutto perfetto. E già inizia a prendere molta forma rispetto a primo. Per aprire il terminale drop down, come vi ricorderete, avevo un terminale drop down. Vado nell'impostazione della tastiera, quindi tastiera. Scorciatoi applicazioni. Qui clicco aggiungi. Ed ho questo comando. Mettiamolo qui fuori. Non si può spostare questo. Allora, mettiamo questo comando. XFC4, trattino terminal, trattino trattino drop, trattino down, spazio, trattino trattino, hide, trattino menu bar, e basta così. Facciamo ok. Mi chiede quale tasto voglio che sia associato. Io, ad esempio, premo F1. Ora, posso chiudere. Se io premo F1, come vedete, mi apre il terminale drop down. Questa barra qui sotto può essere tolta andando in, facendo tasto destro su un punto qualsiasi determinale, preferenze, e togliendo, mostra sempre le schede. E ora è andato via. Anche questo terminale, per chiuderlo, posso fare exit. Per configurare il desktop, molto semplice, tasto destro, impostazioni della scrivania, e qui ovviamente posso mettere lo sfondo che voglio, non ha importanza. A me, ad esempio, non dispiace questo. Quindi, dopo di che vado in icone, e qui tolgo quello che voglio. Ad esempio, io tolgo sempre menu, file system, cestino, e lascio solo i dispositivi rimovibili. Ma anche in questo caso posso decidere quali. Quindi, posso dire, non so, le condivisioni di rete non mi interessano, e altri dispositivi neanche, ad esempio. Mi interessa solo unità e dischi. Quindi qui potete fare effettivamente quello che volete. E avete un desktop bianco, diciamo. Quindi, senza icone, senza niente, bellissimo. Ora, vediamo come configurare anche il menu whisker. Quindi, tasto destro sul menu whisker, proprietà. In aspetto, quindi sulla prima schermata, faccio mostra come lista. Qui lascio così. Qui posso impostare posiziona comandi accanto al campo centra, quindi campo cerca. Quindi ho i comandi qui, insomma. Qui le dimensioni vanno benissimo così. Opacità dello sfondo io metto 95. Quindi, ora qui ho un po' di trasparenza che non si vede tanto, dipende dallo sfondo. Successivamente vado in bottone del pannello. Potete fare un po' come volete. Ad esempio, io lascio icona. E qui potete anche cambiare l'icona. Ad esempio, se io clicco qui. E qui metto una cosa a caso. Va benissimo. Ma posso anche andare qui. Quindi cliccare icona delle applicazioni. File immagine. E scegliere un file immagine che voglio io. Come ad esempio io ho messo tux. Vi ricorderete. Potete mettere quello che volete. Quindi, se avete ad esempio la vostra icona nella home. Andate in home. Scegliete l'icona che volete. Ora io non ho nessuna icona. Comunque scegliete quello che volete. E mettete, per l'appunto, un altro pulsante start. Vado in comportamento. Qui lascio tutto. Qui lascio così com'è. Qui metto questo. Quindi la spuntina qui. Cambia categoria al passaggio del mouse. In modo che non serve che clicco quando passo, insomma. In comandi possiamo lasciare gestori impostazioni. Togliere blocca schermo. Qui potete lasciare quello che volete. Lasciare esci ed edita profilo. Quindi, come vedete, ho il mio menu whisker già configurato. Ovviamente ora io voglio le icone un po' più piccole. Ok. Per quanto riguarda la dimensione, potete prenderlo da qui e scegliere la dimensione che volete. Quindi potete anche andare un po' ad occhio. Fare, insomma, veramente come volete. Se togliete questa spunta, le icone vanno dall'altra parte come da me. Come nella mia configurazione. Ok, stiamo configurando da molto tempo, ma credo che siate felici di questo perché non abbiamo finito. Quindi vado ad installare, anzi posso usare direttamente il terminale drop down. E installare GIMP. Installa veramente tante dipendenze con GIMP. A cosa mi serve GIMP? A mettere la trasparenza a questi pannelli. Quindi, molto banalmente, vado in file, nuova. Scelgo una dimensione che in realtà non ha molta importanza, però dal momento che il pannello vediamo quanto è alto. E' alto 48 pixel. Posso fare una dimensione di 48 pixel in altezza. Anche 50, tanto non ha importanza anche se leggermente più grande. Come larghezza io vi consiglio di mettere, di lasciare 1920. Quindi lasciare tutta la lunghezza in modo che, anche se dovesse essere un po' più lungo del previsto, possa comunque andare bene. Qui fa così perché sono in macchina virtuale. Ok. Quindi ho questo sfondo. Lui lo chiama sfondo. Cosa faccio? Aggiungo un altro livello. Quindi qui crea un nuovo livello e aggiungilo all'immagine. Questa volta però lo creo trasparente. Quindi con la stessa dimensione ma trasparente. E il livello questo qui bianco lo vado ad eliminare. E ora solo il livello bianco. Se è trasparente. Vado a salvare questa... Questo qui lo chiamo ad esempio sfondo pannello. Posso dare un nome che voglio e salvarlo soprattutto dove voglio. Ecco, se voi armeggiate con le impostazioni dei pannelli, sulla doc bar vi si aprirà questa iconcina. Quindi crea un avviatore sul pannello. Come facciamo a toglierla? Dando il comando xfce4-panel, quindi pannello, spazio-r. Quindi questo qui praticamente riavvia il pannello di xfce semplicemente. Faccio invio, lui si riavvia i pannelli, ci mette mezzo secondo e non c'è più. Comunque, per aggiungere quell'immagine trasparente vado qui, nel pannello faccio tasto destro, pannello, preferenze del pannello, in aspetto, quindi qui il suo aspetto, stile, quindi sfondo, stile, immagine di sfondo, file e scelgo il file creato prima. Come vedete, ora è trasparente. Stessa cosa di qui. E ora ho i miei pannelli belli trasparenti. Ridò il comando per togliere questo. E tecnicamente avremo finito, però ormai voglio fare questo video completo, quindi vediamo come personalizzare il terminale con omai zsh. Quindi praticamente facciamo una shell più bella, ovviamente non è obbligatorio. Ma come facciamo? Installiamo prima di tutto zsh, quindi zshell. Su Arch Linux si installa così, su do pacman-s zsh. Credo sia lo stesso, ad esempio, su Ubuntu, semplicemente dando il comando sudo apt install, ad esempio. Però vi ricorderete quando abbiamo configurato questo qui. Come vedete qui ho il terminale nascosto automaticamente. Questo è bellissimo. Quindi, installo zsh. E lo eseguo con il comando zsh. Lui qui mi chiede cosa voglio fare, io premo 0 e va benissimo così, quindi abbiamo finito. Però questa shell devo renderla, diciamo così, di default. Quindi come faccio? Do il comando ch sh, quindi change shell, Meno meno shell, spazio slash bin slash zsh e il nome dell'utente, nel mio caso Rickman. Quindi questo si applicherà solo all'utente che sto usando. Quindi devo dargli la password dell'utente. Shell modificata. Ora non è vero perché se io ipoteticamente chiudo il terminale, quindi lo faccio da qui e lo riapro. Come vedete mi si riapre con bash. Come devo fare? La modifica è andata a buon fine, però per vederla devo semplicemente uscire. Quindi vado qui, esci. Devo praticamente ricaricare, diciamo così, l'utente. E ora se riapro il terminale, ho questa shell qui. Come faccio però a fare in modo che Plank si esegua automaticamente? Come vedete non è stato così. Vado qui, quindi sul mio menu, scrivo avvio e apro sessione e avvio. Vado in avvio automatico, aggiungo qui con il pulsante più, nome. Ok, ora si è aperta. Comunque nel caso non dovesse aprirsi, qui do il nome Plank, comando Plank. Attivazione on login. Quindi quando io faccio il login lui viene attivato automaticamente. Ora se io esco e rientro dovrebbe aprirsi all'istante. Proviamo. Esatto. Quindi, insomma, decidete voi. Io lo tolgo perché, ad esempio, nella mia configurazione, diciamo quella vera, non questa della macchina virtuale, non l'ho messo e funziona ugualmente. Quindi non è per forza necessario. Vedete voi, insomma, se volete o meno. Ora andiamo a scaricare o myzsh da GitHub e qui vedo come installarlo. Quindi io uso vget, quindi questo comando qui lo copio molto semplicemente, glielo do in pasto, quindi proprio così. Boom. Oh, ma qui non c'è niente, è proprio zero. C'è nemmeno i comandi più basilari. Perfetto. E mi ha installato o myzsh, quindi molto banalmente se chiudo il mio terminale ok e lo riapro automaticamente o myzsh però o myzsh posso anche configurarlo. Come faccio? Se io do il comando ls-a magari cerchiamo di ingrandirlo un po'. Ok. Quindi e comunque andando su preferenze dovrei poterlo ingrandire in aspetto ok qui magari ingrandire un po' mettere anche come tema proprio droid sans come abbiamo visto prima ok se io do il comando ls-a stavo dicendo ho questo file .zshrc che è stato modificato automaticamente se io do il comando nano che di sicuro non è installato però va bene nano .zshrc all'interno della mia home ecco questo tema è bello perché se sbagliate comando la freccetta è rossa quindi vabbè comunque non cambia insomma adesso vediamo come decidere quale tema usare quindi ripeto do quel comando e qui e qui su zsh team scrivo random random esco con ctrl x s invio ora do il comando source quindi ricarica praticamente .zshrc ogni volta che lo faccio lui mi crea come vedete mi da diciamo così un nuovo tema ora i temi effettivamente cambiano perché vedete che cambia il nome non cambia insomma diciamo così l'interfaccia comunque no i temi in realtà cambiano un po' non sono sempre quelli ora non so precisamente perché faccia così non dovrebbe farlo voi eh comunque a me non l'ho mai fatto cioè non ho mai dovuto scaricare insomma i temi comunque facciamo finta che funzioni come vedete in realtà un po' cambia perché cambia qui cambia qui cambia qui quindi un po' cambiano se per l'appunto non me li cambiasse con temi uguali io ad esempio dico ok pmcg quindi questo tema qui mi piace copio questo nome modifico nuovamente il file zshrc e qui inserisco il nome del tema che mi piace quindi chiudo ricarico e ho il mio tema quindi se io chiudo il terminale lo riapro ecco ora ha ricaricato i temi effettivamente quindi mi stava prendendo in giro prima non so perché lo facesse a volte è un po' cattivotto con me vai a capire perché ecco come vedete ora effettivamente li cambia e niente da fare vabbè comunque avete capito insomma io ho inserito quel nome se ad esempio metto questo vedrete che cambierà nuovamente ecco come vedete insomma in base al nome cambia per l'appunto tutto il tema quindi ragazzuola abbiamo finito ovviamente si potrebbe configurare anche likeddm che è il gestore dei display che avete visto prima quando facevo esci per quello c'è da installare un altro pacchetto e tutto ma secondo me non ha senso che ve lo faccia vedere perché comunque insomma il gestore di display è una cosa che vedi solo quando inserisci la password dopodiché ti godi il tuo sistema ben personalizzato e va bene così a mio parere quindi questo era come personalizzare XFCE come ho fatto io vedo che ho registrato per un'ora forse anche di più mamma mia non ne posso più sono veramente ho la gola che brucia fa malissimo però va bene spero che questo video vi sia piaciuto dai mettete un like insomma per l'impegno noi ci ritroviamo in un prossimo video e ciao belli